covid curva pandemica in discesa e calo dei ricoveri gabiccia accusa cattolica di far promozione appropriandosi del san bartolo crisi idrica marche multiservizi rilancia la necessità di un invaso fondi europei per i progetti pesaresi di valorizzazione di attività marine una buona serata e un buon uomo weekend di ferragosta tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre per rossini news questo che il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 13 agosto apriamo facendo il punto sulla situazione pandemica nel territorio marchigiano sono sempre meno gli ospedalizzati e questo infatti l'effetto del numero crescente di vaccini che si sta ripercuotendo nei numeri dei ricoverati marchigiani che nelle ultime settimane si sono attestate tra le 40 e le 50 unità e che oggi 13 agosto risultano scesi a 38 casi di cui 7 in terapia intensiva stabili ma in decrescita anche i casi di contagio oggi se ne registrano 171 e per la prima volta dopo giorni di crescita si abbassa anche il tasso di incidenza accumulativo ogni 100 mila abitanti da quota 77 a quota 76 dopo giorni senza lutti oggi però si registrano due decessi entrambi di anziani delle pesarese con un quadro clinico di patologie pregresse si tratta di una donna di 88 anni di carpegna e di un uomo di 91 anni di fano e il nostro primo servizio di oggi lo dedichiamo ad una inattesa guerra di confine chiamiamola così quella che si è creata fra cattolica e gabice mare ad essere terreno di scontro il parco del san bartolo che il comune di cattolica avrebbe utilizzato secondo gabice per fini di promozione territoriale vediamo il comune di cattolica non ha avuto rispetto per il parco san bartolo possiamo sintetizzarlo così il comportamento tenuto dalla città romagnola che per promuovere due eventi organizzati dal 25 settembre al 3 ottobre ha utilizzato maliziosamente alcune immagini del san bartolo e di gabice la campagna pubblicitaria avviata dal comune di cattolica adunque usufruito di due territori marchigiani senza permesso e senza aver confrontato prima l'amministrazione un comportamento decisamente non corretto e quanto sostenuto dal sindaco di gabice domenico pascuzzi che è venuto a conoscenza delle immagini sfruttate dalla propaganda solamente dopo la pubblicazione il mio pensiero è ribadisco quello che poi ho scritto nel mio post di ieri a cui poi naturalmente è stata preceduta ieri prima di post una lettera ufficiale al comune di cattolica in cui ribadisco quello che poi ho riportato nel post che ho mandato poi che ho preparato ieri ma che ho mandato questa mattina quando gli uffici comunali erano aperti e sostanzialmente rimango sconcertato da come in maniera ingannevole il comune di cattolica abbia utilizzato le immagini del parco del san bartolo spacciandolo come territorio di cattolica va benissimo avere fare eventi assieme già ne facciamo l'abbiamo fatto nel passato quello significa essere collaborativi e condividere delle cose però poi vedere eh un evento di questa entità di cui non so nulla se non un incontro che c'è stato soltanto qualche mese fa con gli organizzatori eh vedere a distanza di diversi mesi no la promozione che è partita in Pontamagna ieri di video foto che ritraggono Gabbici e Monte e San Bartolo come cattolica Emilia Romagna eh fa arrabbiare perché proprio vanno c'è 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 stata una completa mancanza di di rispetto fra le istituzioni proprio parliamo dell'ABC dell'amministrazione questa quindi però siccome non è non sono nuove a questi eh fatti perché qualcosa di similare è successo anche con l'amministrazione comunale di San Giovanni di Marignano quindi forse qualche domanda se la devono porre loro su cosa significa essere eh corretti e rispettosi delle delle istituzioni quindi se si vuole collaborare non è questo il metodo a mio avviso di 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 avviare una collaborazione probabilmente loro hanno tenuto il patrocino del del parco San Bartolo ma il parco San Bartolo dimenticandosi che eh è dei comuni di Gabbici e Mare e di Pesaro e quindi non hanno mandato alcuna richiesta di patrocino né al comune di Gabbici né al comune di di Pesaro quindi hanno cercato forse di bypassare lì lavorando un po' sulla buona fene del presidente Mariani che da mente per lato ha confermato la la scorrettezza dell'operato della dell'amministrazione dell'amministrazione comunale tant'è che valuteremo se ritirare come parto San Bartolo il il patrocinio che è stato che è stato concesso ehm quindi questo in conclusione mi aspetto almeno eh delle scuse ufficiali da parte del dell'amministrazione comunale di Cattolica poi dopodiché eh vediamo se ci sono i presupposti per eh lavorare in maniera condivisa su questi su questi eventi. E questa mattina i vigili del fuoco sono di nuovo intervenuti per un incendio sul Monte Fagiolo ovvero nel territorio compreso tra il comune di Monte Cerignone e di Macerata Feltria dove domenica sono andati in fumo 15 ettari di bosco. Si tratta di un ruogo di più lieve entità rianimatosi per cause ancora da accertare. È stato invece identificato il colpevole dell'incendio di Isola del Piano che sempre domenica ha distrutto circa 4 ettari di bosco. Il responsabile un sessantenne residente della zona è stato individuato dai carabinieri forestali dopo aver applicato il metodo delle evidenze fisiche tecnica capace di rintracciare dove ha avuto inizio il fuoco la motivazione e il mezzo utilizzato. Il sessantenne dell'Isola del Piano stava svolgendo dei lavori con strumenti metallici dai quali si sono originate scintille che hanno poi provocato l'incendio. L'uomo è stato rinviato a giudizio per il reato di incendio boschivo colposo con una pena che va da 1 a 5 anni di carcere. Ieri vi abbiamo mostrato un'intervista all'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli che ci ha fatto presente un quadro allarmante della progressiva crisi idrica nel nostro territorio con il prosciugamento di sorgenti e fiumi sempre più impoveriti. Tiviroli che è stato ospite dunque dei nostri studi di Rossini TV ha anche rilanciato la possibilità di realizzazione di un invaso provinciale come soluzione dai molteplici benefici. L'invito ai soggetti che hanno il potere decisionale di ragionare e valutare la realizzazione di un invaso va in questa direzione. Noi anno scorso abbiamo ritenuto doveroso commissionare uno studio a dei professionisti locali proprio per vedere se si poteva individuare uno dei siti potenzialmente utili e loro hanno fatto credo un buonissimo lavoro in tempi anche molto rapidi e hanno fatto uno screening dicevo dei siti potenziali ma a noi questo interessa relativamente poco anche perché il nostro voleva essere solo un contributo, uno stimolo alla valutazione e la decisione. Riteniamo però che un invaso sia un elemento fondamentale per tanti motivi. Un invaso sicuramente soprattutto realizzato all'interno non va sicuramente a deturpare una vallata o un territorio ma anzi lo arricchise. Nella testimonianza tutti i siti a livello nazionale che sono ricchi di bacini artificiali i quali producono beneficio alla collettività locale e basti pensare di Dracoli ma anche tutto il Trentino dove è ricchissimo di bacini artificiali dove viene sviluppato turismo dove l'aspetto economico e sociale della collettività che risiede ovviamente si sviluppa in modo molto positivo quindi non è un depoperamento di un territorio ma invece è un arricchimento. Basti solo pensare che realizzare un invaso parliamo di investimenti che passano i 100 milioni, i 150 milioni di euro e quindi cosa significa in un territorio per esempio di un'area interna ribaltare 150 milioni di investimento significa produrre ricchezza. Sicuramente produce benefici ambientali importanti che non sono solo quello dell'approvvigionamento idrico ma sicuramente beneficio ambientale per l'alaminazione delle piene, produzione di energia elettrica pulita, sicuramente l'approvvigionamento idrico perché comunque è uno dei temi principali ma anche un contributo, questo lo dico perché qualcuno solleva il problema dell'aspetto ambientale avere disponibilità a monte di tanta acqua significa anche avere dell'acqua da poter rilasciare nei fiumi quando le portate sono veramente di magra come in questo momento e invece di ridurre il minimo del flusso vitale del fiume ovviamente abbiamo la possibilità di rilasciare acqua quindi direi che i benefici ambientali sono veramente molteplici e ovviamente non lo so io non voglio fare polemica ma quando sento aspetti ambientalisti che dicono che l'alternativa è dessalinizzare l'acqua del mare mi fa un po' sorridere perché contraddice tutto quello che l'agenda ONU, tutto quello che il mondo ci chiede perché chiaramente non ha veramente senso non captare l'acqua che piove e che dè acqua dolce dal cielo, lasciarla andare al mare e poi pensare di dessalinizzarla e riportarla in montagna. Concludo sul fatto che un invaso ovviamente richiede e questo ci tengo a sottolineare quello che Marche Multiservizi ha presentato non è un progetto come qualcuno scrive sui giornali o solleva in giro, è un contributo che tende a individuare dei siti potenzialmente utili ma vorrei evidenziare il fatto che comunque per realizzare un invaso richiede una progettualità una progettazione che vale qualche anno di lavoro, richiede una molteplicità di professionalità e competenze di alto livello e ovviamente richiede, questo lo dico perché così si carisce anche un aspetto importante, uno degli aspetti fondamentali nella progettazione di una diga è l'aspetto della valutazione di impatto ambientale. E restando in tema della carenza idrica appena trattata, anche il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini ha emesso oggi un'ordinanza valida su tutto il territorio comunale con decorrenza immediata e valida fino a revoca del provvedimento con cui si dispone il divieto di prelievo e consumo d'acqua dell'acquedotto pubblico per irrigazione e innaffiatura di orti, giardini e prati così come per lavaggio di cortile piazzali, lavaggio privato di veicoli a motore, riempimento di piscine, fontane e vasche da giardino e soprattutto per usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale. Le multe previste vanno dai 25 ai 500 euro. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come di consueto vi invitiamo a inviarci con foto o video al numero whatsapp dedicato 370-366-7210. Foto che vi proponiamo oggi che ci è stata inviata dal nostro telespettatore che proprio in tema di carenza idrica riguarda una perdita d'acqua che si trascina da giorni in via Lago Maggiore non lontano dalla chiesa di Villa Ceccolini. Una segnalazione con la quale si intende dunque sollecitare un pronto intervento per quel che riguarda gli organi preposti a simili riparazioni. Questa mattina nella sede della Lega Navale di Pesaro è stato presentato il primo dei tre progetti che sono pensati per valorizzare le attività marine del territorio, progetti che beneficeranno di finanziamenti europei. Vediamo in questo servizio di cosa si tratta. Anzitutto i complimenti alla Lega Navale e al Liceo Marconi per questo progetto che è uno dei tre che come città di Pesaro, comune di Pesaro, territorio di Pesaro ci siamo aggiudicati ed è un risultato incredibile perché i tre progetti finanziati dal GAC per il nostro territorio sono tutti i tre progetti partoriti qui a Pesaro, questo di oggi della Lega Navale del Marconi e presenteremo nei prossimi giorni sia quello del sentiero di Focara e di Fiorezzuola che era stato gravemente danneggiato dall'incendio e anche il progetto della Fondazione Cetacea per le tartarughe in Baia Flaminia. Il nostro progetto è aver demolito una struttura vecchia, obsoleta, non più in linea con i tempi, l'abbiamo demolita e in collaborazione con il liceo scientifico abbiamo fatto questo progetto che è la ricostruzione di questo manufatto con circa il doppio della cubatura dove noi lo scopo primo è quello di realizzare scuola a vela per i ragazzi, per i bambini, ogni attività che è supportata e è prevista dallo statuto, dal regolamento della Lega Navale italiana. All'interno del liceo Marconi c'è un liceo sportivo che è l'unico nella provincia e da tempo noi facciamo vela qui al porto a Baia Flaminia in un contesto straordinario qual è appunto la spiaggia e la falesia del San Bartolo. Parte da lontano abbiamo la necessità di avere un presidio, di avere dal punto di vista logistico una sede dove poter per esempio far cambiare i ragazzi, quindi uno spogliatoio, dove avere un bagno, oltre ovviamente ad avere la spiaggia e le barche a disposizione della Lega Navale. È un bel progetto perché riqualifica anche ulteriormente un'altra porzione di Dio Pavarotti di Baia Flaminia, quindi la parte che era poi in disordine di rimessaggio delle barche avrà una nuova pensilina che si sta realizzando proprio in questi giorni, quindi anche un ringraziamento alla Lega Navale per aver gettato il cuore all'ostacolo perché oggi presentiamo l'arrivo dei finanziamenti ma in realtà abbiamo iniziato a lavorarci già da prima e anche uno scivolo a mare appunto per, un corredoio a mare scusate, per le imbarcazioni, quindi una riqualificazione particolare di una parte di tratto su cui stiamo in generale investendo particolarmente in nome dell'ambiente e della sostenibilità degli sport acquatici. E proprio in occasione della sua presenza oggi alla Lega Navale di Pesaro Riccardo Rossini che oltre a essere il preside del Liceo Marconi e anche il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi per quel che riguarda la Regione Marche ha ostentato ottimismo per la ripresa dell'anno scolastico in sicurezza proprio ad un mese dalla prima campanella sull'anno 2021-2022. Se non succede qualcosa di veramente anomalo è assodato che le 15 di settembre noi partiremo tutti quanti in presenza. Il problema sarà eventualmente successivo, cioè a ottobre, novembre in caso di alcuni focolai che cosa fare, ma credo che non si riproporrà la situazione dell'anno precedente. I vaccinati sono tantissimi, stanno rispondendo tantissimo anche i ragazzi all'ultima campagna di tamponatura, cioè di tamponi rapidi svolti dal Liceo Scientifico recentemente ho visto una coda di giovanissimi e passando fra loro ho sentito loro stessi dire ma se ci fosse stata la possibilità di vaccinarci stamattina ci saremmo vaccinati, non avremmo fatto il tampone. Quindi è evidente che c'è una risposta diversa da parte degli adolescenti, da parte dei giovani, una risposta più consapevole sul quale noi contiamo per poter effettivamente passare un anno scolastico più sereno rispetto a quelli che sono stati gli ultimi due. Parliamo ora di cantiere in città a Pesaro e ci concentriamo in particolare sull'andamento dei lavori al vecchio palasport di Viale dei Partigiani. È da tempo tramontata l'idea di ospitare il galà Rossini, galà conclusivo del ROF in programma il prossimo weekend, questa era la previsione iniziale, invece oggi l'assessore all'operatività del comune di Pesaro, Enzo Belloni, ci aggiorna su quando probabilmente potrà essere utilizzabile la struttura polivalente che si sta creando appunto nella zona mare di Pesaro. Devo dire che i lavori stanno andando avanti bene, la ditta sta lavorando, ritorniamo al discorso delle difficoltà di reperimento del materiale, però si sta andando avanti sul doppio turno, quindi tutto secondo il cronoprogramma. La cosa importante qual è? Che noi una volta completato il progetto abbiamo deciso di puntare molto sull'efficientamento energetico, perché rispetto al progetto iniziale il mondo in qualche modo è cambiato, vista l'esperienza delle scuole di Via La Marmora, dove grazie agli interventi fatti abbiamo avuto riconoscimenti anche importanti che porteranno anche un notevole risparmio rispetto al consumo di energia. sul Polassetto avevamo puntato molto su una riqualificazione energetica che in qualche modo ci ha fatto perdere un po' di tempo, però ci permetterà appunto di avere una struttura molto più funzionale rispetto al progetto originale. Abbiamo avuto l'ufficializzazione del finanziamento del GSE di 1.750.000 che peraltro avevamo previsto nel piano trilionale delle opere, quindi siamo particolarmente orgogliosi e sicuri che una volta terminata avremo un impianto di primissimo livello. Anche in questo caso tempistiche quindi? Ma noi contiamo già per Natale di avere il palassetto parzialmente attivo e utilizzato e utilizzabile e poi piano piano andremo a sistemare anche i negozi, diciamo che per la primavera dovrebbe essere tutto a posto con il fiocco sopra. Il problema è sempre il solito in questo momento, la fornitura delle materie prime che fa diventare matti un po' tutti. A Ferragosto la cultura non va in vacanza a Pesaro dove tutti i principali musei saranno infatti aperti domenica 15 a cominciare dai musei civici e dal teatro acustico la Sonosfera, ma anche Casa Rossini con l'appena inaugurata mostra dedicata ai 200 anni dell'opera del Roff Matilde di Chabran, così come il Museo Nazionale Rossini, la Domus di Via dell'Abbondanza, l'Ara archeologica di Colombarone e le mostre visitabili allo spazio bianco di Via Zongo e al centro pescheria di Via Cavour. Ed ora il nostro consueto aggiornamento sul programma del Rossini Opera Festival relativo alla giornata di domani, 14 agosto, che alle 15.30 al Teatro Rossini prevede il concerto di Belcanto con il protagonista Alexei Tatarintsev. Alle 20 si alza invece il sipario sulla prima replica di Elisabetta, regina d'Inghilterra di Davide Livermore e facendo un passo ancora avanti, il 15 e il 18 agosto alle 11 al Teatro Rossini andrà in scena invece il viaggio a Reims. Dal 2001, infatti, Roff, all'interno del suo Festival Giovane, propone il viaggio nell'interpretazione di giovani e voci formatisi nell'ambito della 33esima Accademia Rossiniana Alberto Zedda. E replicare sullo schermo la passione per le squadre cittadine nasce con questo obiettivo la ASD Wild Boars, un progetto e un'associazione sportiva pesarese che intende radunare appassionati e professionisti di videogiochi sportivi, un settore in crescita anche nella nostra realtà locale che sta influenzando sempre più pesaresi. Ad illustrarci il progetto, nelle prossime interviste sono il presidente e il vicepresidente appunto dell'associazione Wild Boars. Stiamo cercando tutti i ragazzi che siano appassionati al mondo dei videogiochi, in qualsiasi sport che preferiscano, quindi noi stiamo cercando di essere un punto di riferimento per loro in questo e l'obiettivo nostro è avere la possibilità di partecipare già a delle competizioni che partiranno a settembre-ottobre, che sia calcio, basket, che sono gli sport più rappresentativi della città o altri generi di sport tipo Formula 1 o tennis o altro. Possibilmente di pesaro così per creare un'aggregazione, per far sì che un domani anche un'academy per insegnare magari i bambini più piccoli a diventare dei pro player veri e propri, magari chissà fare questo il loro lavoro un domani. L'associazione è nata a giugno, al momento noi logicamente siamo sviluppati su due fattori che sono anche sport reali perché la federazione non è ancora esistente, quindi noi non siamo logicamente riconosciuti ad oggi dal CONI, quindi stiamo aspettando quel tipo di ufficialità e nel frattempo ci stiamo sviluppando anche su creare tornei che possano aggregare la gente all'associazione, quindi che siano boccette piuttosto che, con l'obiettivo ovviamente di andare su quell'ambito lì. Siamo nati a giugno, giovanissima, arriviamo tutti e due dal mondo del gaming, quindi più o meno conosciamo l'ambiente e stiamo cercando anche di allargarci su quell'aspetto lì, abbiamo preso già contatti e quant'altro, quindi adesso noi stiamo cercando di quagliare quello che sono tutte le nostre richieste, obiettivi eccetera. Concludiamo con lo sport e con la Vispesoro che per il momento rinuncia alla campagna abbonamenti per i suoi tifosi. Ancora troppe infatti le incertezze legate all'afflusso agli stadi al momento prevista al 50% della capienza. Intanto è stato ufficializzato l'orario della prima partita ufficiale al Benelli, si tratta del primo turno di Coppa Italia col Modena che sarà sabato 21 agosto alle ore 18. Restando nel calcio pesarese ma scendendo nel dilettantismo è ufficiale invece il ripescaggio in prima categoria del Muraglia, un livello calcistico che la società pesarese non assaporava da vent'anni. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci però vi ricordiamo qualche appuntamento in questo weekend di Ferragosto. Cominciamo con la prima serata di questa sera che alle 21.15 vi riproporrà candele sotto le stelle 2021, la serata di martedì con tutti i dettagli in questo speciale realizzato da Paolo Pagnini. Vi ricordiamo naturalmente che l'informazione torna puntuale domattina anche di sabato con la rassegna stampa Buongiorno Rossini in diretta dagli studi di Rossini TV alle 7.20 con Marco Cadeddu alla conduzione. E vi ricordiamo anche il nostro consueto appuntamento serale della domenica con Wine and Luxury domenica 15 agosto alle 20.30. Gli ospiti nel format televisivo di Emanuela Pacelli saranno il vicepresidente FIS Carlo Attisano, la manager e sommelier Eleonora Caso e il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Nel salutarvi vi auguriamo una buona serata con i programmi di Rossini TV ma anche assolutamente un buonissimo weekend di Ferragosto.